Aver ricevuto l'Oscar del vino per innovazione 2014 è stato per noi grande motivo di orgoglio e di soddisfazione. Pensando al nostro lavoro, al nostro mestiere che si fa con le mani, con l'esperienza, con l'uso degli occhi, facendo della tradizione innovazione e portando l'artigianalità, il made in Italy italiano, in Europa e nel mondo a formare quelle che sono le maestranze, le persone che si occupano attivamente e che mettono le loro mani sulle piante affinché queste possano vivere più sane e più a lungo nel tempo è, ripeto, grande orgoglio e grande motivo di soddisfazione per me e per il nostro gruppo che da anni investe e crede in questa nostra attività.